E' un minuto alla volta. Io produco e vendo saponi. Fu così che conobbi Tyler Darden. Dai, colpisci mi, se no perdo il coraggio. Ecco! Mi hai colpito all'orecchio! Tutti ce l'avevano sulla punta della lingua. Posso partecipare? Gli abbiamo dato un nome. Signori, benvenuti al Fight Club. La prima regola è... Non dovete parlare del Fight Club. Dopo Fight Club tutti cominciamo a vedere le cose diversamente. Dovrai tenermi sveglia tutta la notte. E lei rovinò tutto. Non è che ti piace? No, ma che dici? Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che saremmo diventati tutti miliardari. Miti del cinema, rock star. Ma non è così. Lui aveva un piano. Non era chiaro lo scopo. Confidavamo in Tyler. Dobbiamo alzare il tiro di Fight Club. Ognuno di voi ha un compito da svolgere. Comincerete a battervi con gli sconosciuti. Non è necessario. E perderete. Fa male. Cercavi un modo per cambiare la tua vita. Eccolo. Fermo tutto. È già fatta. Perciò sta zitto. Ma che gioco perverso stai giocando? Oh mio Dio. I giovani. Questo è troppo! No! Alla fine mi ringrazierai. No! No!